Faccio sto video perché vedo che tanti sono preoccupati, perché mi iscrivete in tanti, di rispondere. Ragazzi, cosa dire, abbiamo giocato male, Inzaghi ci ha messo un po' del suo perché ha fatto dei cambi, un po' bu, ma Taremi mai neanche preso in considerazione, Zeninsky dopo la partita che ha fatto col City era da riconfermare, ma anche lui in panca. Il Milan, ragazzi, ha giocato meglio, cosa dobbiamo dire? Siamo zitti, testa bassa, pedaliamo, ci rimbocchiamo le maniche per le prossime partite. Un po' è una delusione perché perdere con questo Milan ce ne voleva, hanno giocato bene, si sono impegnati, ci hanno messo di tutto, ci hanno provato, hanno fatto tante occasioni, noi abbiamo avuto qualche occasione, ma nel complessivo loro hanno meritato, non si può dire altro. Sono dispiaciuto, si sono incazzato perché abbiamo perso contro questo Milan, forse è stato un altro Milan di fenomeni o squadra imbattibile, ma questo Milan ragazzi no, hanno vinto tutti, hanno pareggiato tutti contro questo Milan e noi abbiamo regalato dei punti, regalato perché secondo me se l'Inter gioca da Inter non ce n'è, ma non è stato così, quindi sono incazzato, incazzato, incazzato e deluso, perché anche stasera dei giocatori dove ti aspetti non hanno fatto nulla, giocatori scarichi, giocatori stanchi, giocatori che tutta la settimana postano robe sul derby e poi dopo mi fai questa prestazione, posso parlare di Ciananoglu sotto tono, posso parlare di altri giocatori ragazzi, ma nel complessivo tutti, tutti, chi puoi salvare? Magari salvi Di Marco che ha fatto il gol, salvi Turam che magari si è sbattuto un po', ma cosa gli puoi dare? Forse il 6 a questi due giocatori, però Inzaghi poi stasera Aslani penso che sia stato criticato da tutti e il primo cambio che fa, uno dei primi cambi che fa è Aslani, boh, ditemi la vostra e ragazzi complimenti ai cugini, ci hanno fatto il culo, e poi Pazzini l'ha presa, purtroppo Pazzini l'ha presa, ciao Ayo, buonanotte.